E se vi dicessi, ve l'avevo detto, infatti oggi ragazzi andiamo a vedere il perché dopo la trimestrale uscita Netflix sta facendo il più 15% in un solo giorno guardate il grafico, fa spavento, guardate che gap si è formato è andato a superare quello che era l'all time high che aveva toccato il 10 luglio che poi aveva sfiorato intorno al 14 ottobre come potete vedere ha superato questa soglia qua, infatti è toccato i 580 dollari per azione come sapete io sono dentro Netflix, ho un prezzo medio che sta a 504, ho 0,8 azioni quindi sto raggiungendo la mia prima azione su Netflix come sapete, come vi ho già fatto vedere, le mie previsioni su Netflix sono molto molto positive la reputo molto sottovalutata, infatti secondo me e secondo i miei calcoli potrebbe raggiungere un prezzo medio intorno ai 1800 tra 5 anni e non vi dico nemmeno che sia troppo difficile quindi sarebbe più che un 200% se ascoltate me vi analizzate meglio Netflix perché è molto molto interessante io subito la sottovalutavo perché dicevo ho paura dei colossi come Google e Amazon che possono tranquillamente entrare in questo settore qua lo sta già facendo Amazon con Amazon Prime Video che sinceramente a me non fa impazzire però ogni tanto lo guardo per qualche film lo sta già facendo anche un po' in parte Google tramite i noleggi e gli acquisti dei film su YouTube però secondo me è un business ancora molto diverso la cosa che mi fa impazzire di Netflix è che riesce a fare tantissimi ricavi pur non utilizzando attori che di fatto potrebbero costare molto alla piattaforma se voi pensate a una serie come The Queen's Gambit ovvero la regina degli scacchi è una serie che ha fatto se non ricordo male andiamo a vederci un po' i dati ufficiali 62 milioni di famiglie appunto che avevano il membership hanno guardato nei primi 28 giorni di servizio The Queen's Gambit una serie che io l'ho vista e mi è piaciuta moltissimo e di fatto penso sia costata a Netflix pochissimo perché tutti gli attori sono attori non dico presi dalla strada ma di fatto praticamente sconosciuti ed è questo che mi fa impazzire di Netflix è che riesce a prendere attori che di fatto non sono conosciuti e li rende famosissimi perché voi siete andati a prendervi anche solo un attore della Casa del Papel adesso non dico che sia famoso come un Brad Pitt ma è molto molto famoso e questo alla lunga può portare tantissimi ricavi a Netflix un'altra cosa interessante è che durante questa trimestrale qua Netflix ha fatto uscire un film interpretato e diretto da George Clooney quindi un attorone ed è stato il più grande film originale del trimestre infatti è stato visto da 72 milioni di famiglie nelle prime 4 settimane ma andiamo a vederci un po' quelli che sono i numeri chiave della trimestrale perché come sapete vi voglio far vedere un attimo Netflix ha battuto le attese di poco sui ricavi ma sugli utili per azioni non ha per nulla rispettato le attese infatti come potete vedere se voi andate su bilancio utili su Netflix su investing potete vedere come si aspettava 1,35 di utili per azioni per il trimestre e Netflix ha fatto uscire una trimestrale solo dell'1,19 mentre i ricavi si aspettavano 6 miliardi e 620 milioni e invece hanno fatto 6 miliardi e 640 milioni quindi di fatto praticamente normale e allora voi mi chiederete ma allora perché Netflix sta salendo del 15%? e a mio avviso è sostanzialmente per due motivi qua per le azioni tipo Netflix o anche Disney con Disney Plus si guarda tantissimo il numero di nuovi iscritti e infatti la cosa molto importante è che Netflix ha avuto 8,5 milioni di abbonati paganti in più in questo trimestre qua se considerate che il quarto trimestre vabbè che era l'estate però ha praticamente penso toccato forse 2 milioni in più all'incerca sì direi all'incerca 2 milioni in più mentre in questo trimestre qua sono 8 i milioni in più e praticamente secondo me si arriverà anche intorno ai secondo me intorno ai 10 milioni potrebbe arrivarci per quanto riguarda il Q1 del 2021 e quindi sarebbe tantissima roba considerate che Netflix per la prima volta ha raggiunto i 200 milioni di abbonati e una cosa impressionante per farvi capire la crescita di Netflix è il fatto che nel 2017 fossero solo 100 milioni quindi ha fatto un per due in praticamente tre anni spaventoso un'altra cosa che è la seconda cosa che ha fatto salire tantissimo l'azione di Netflix è che non so se lo sapete ma Netflix ha un flusso di cassa negativo questo vuol dire che semplicemente non riesce tramite il flusso entrante di cassa a pagare quelle che sono le spese correnti ed è per questo che sostanzialmente doveva ricorrere a finanziamenti quindi ad indebitarsi grazie alle ultime trimestrali e alle previsioni per i trimestri del 2021 come potete vedere qua Netflix ha affermato che non avrebbe più bisogno di raccogliere finanziamenti esterni per le operazioni quotidiane e avrebbe persino esplorato la restituzione di denaro azionisti questo è la traduzione in italiano ma spiegato brevemente quello che vi dicevo è che se non ha bisogno più di indebitarsi per pagare le spese correnti semplicemente lo farà tramite il proprio business cioè tramite l'operatività quindi semplicemente dagli abbonamenti una parte la utilizzerà per pagare i debiti quindi sostanzialmente dovrà pagare meno interessi sui debiti e questo è spaventoso un'altra cosa che ha detto il CFO è il fatto che visto che è stato detto che tendenzialmente Netflix nei prossimi anni deciderà di fare un po' di buyback ha affermato che però il buyback che avranno intenzione di fare non escluderà investimenti importanti quindi molto molto interessante per quanto riguarda la situazione debitoria come vi dicevo la società ha detto che intende pagare anche una parte maggiore del suo debito infatti ha raccolto 15 milioni di debiti dal 2011 e attualmente ha 8,2 miliardi in contanti quindi ragazzi miei la situazione di debitore di Netflix sta migliorando e nei prossimi anni continuerà a migliorare un'altra cosa che mi ha fatto un po' pensare è il fatto che si siano tranquillamente esposti sulla competizione che c'è con Disney Plus e con altre piattaforme infatti non so se lo sapete ma Disney Plus nel primo anno cioè nell'anno di lancio ha fatto 87 milioni di abbonati paganti e io ve lo dico anche ho Disney anche in portafoglio quindi non è che mi preoccupi più di tanto però una cosa che fanno notare è il fatto che il 30% di questi 87 milioni derivano da una piattaforma che si chiama Hotstar che è una piattaforma di streaming che Disney offre in India che per chi non sapesse l'ARPU semplicemente è i ricavi che l'azienda fa sul singolo utente cioè i ricavi totali diviso il numero di utenti paganti è un indicatore che viene spesso utilizzato dagli analisti per vedere effettivamente quanti soldi riescono a guadagnare le singole aziende dai singoli abbonati paganti comunque se volete vedere un riepilogo di Netflix sapete che io ve lo sto mostrando un attimo ma queste sono le crescite di Netflix dal 2015 al 2019 dovrò aggiornarlo col 2020 ma lo farò a breve possiamo vedere come il gross margin è aumentato dal 2% al 10% quindi potete vedere come di fatto stia aumentando esponenzialmente gli utili infatti gli utili sono aumentati del 1362% mentre i ricavi sono del 197 solo tra molte virgolette praticamente quadruplicare i ricavi in 5 anni diciamo che è tantissima roba e ragazzi miei dovete considerare che le previsioni per i prossimi anni non sono così distanti dalle crescite che ha avuto Netflix negli ultimi 5 anni ovviamente sono più basse però non sono molto distanti perché come potete vedere gli analisti di Yahoo Finance si aspettano una crescita annua del 45,24% che secondo me è molto molto alta mentre quelli di Zax si aspettano una stima di crescita un po' più conservativa che si aggirerebbe intorno al 29% e secondo me questa è ancora un po' più fattibile detto questo ragazzi mi fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete Netflix o se non ce l'avete se avete intenzione di comprarla io come vi ho già detto ho Netflix in portafoglio ho 0,8 azioni e ho quindi all'incirca 380 euro su Netflix più o meno e ho intenzione comunque di incrementare la mia posizione infatti io ho iniziato un piano di accumulo partendo mi pare da questi prezzi qua come vedete sono riuscito di fatto come se io avessi acquistato prima del balzo solo che ho rischiato molto di meno perché facendo un piano di accumulo appunto rischi molto di meno perché nel caso in cui l'azione fosse crollata io avrei sempre comunque potuto mediare il prezzo e avrei rischiato mentre se fosse salita semplicemente avrei guadagnato quindi di fatto sarebbe stato nessun problema detto questo ragazzi e io spero che questo video qua vi sia piaciuto lasciatemi un like un commento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video